ciao c'è un altro modifier che magari si usa un po poco però è questo che si chiama offset che permette in pratica di aggiungere dei valori di location rotation e scale al nostro disegno quindi appunto se aggiungo qui uno semplicemente si sposta di una unità sull'asse x posso abilitarlo o disabilitarlo sull'asse y sull'asse z oppure lo posso ruotare su questi assi o anche scalare può essere utile per applicare una deformazione che posso mettere e togliere oppure che posso animare perché sapete che tutti questi valori possono essere animati quell'animazione che avevamo del gatto che si alza e si abbassa potrebbe essere raggiunta anche con questo modifier offset animando questo valore e quindi per esempio lasciandolo qui a 0 al fotogramma 20 invece lo riduco leggermente così e l'ho keyframeato anche in quest'altro fotogramma riduco da 0 a 40 se faccio play adesso vedete questo valore non fa altro che fare lo stesso lavoro che avrei fatto prima con la scala solo che è fatto con un modifier che ha il vantaggio appunto di poter essere applicato solo a certe cose per esempio in questo caso ho fatto solo il materiale del corpo o viceversa solo tutto tranne il materiale del corpo certi vertex group quindi ricordatevi appunto sempre tutte queste possibilità che ci sono magari può essere usato per creare un effetto se non lo faccio a questo modo adesso lo cancello e lo ricreo notate che si è ricordato questa animazione se la voglio togliere faccio tasto destro e clear keyframes e mi rimuove completamente l'animazione per esempio potrei scegliere di prendere il livello delle linee e fare un leggero offset per per creare una sensazione di fuori registro che magari in certi tipi di animazioni o comunque di disegni potrebbe essere un effetto che uno va a cercare invece di farlo a mano assegnarlo a offset può essere un modo più pratico per poterlo mettere e togliere e appunto eventualmente animare c'è anche sotto advanced la possibilità di usare delle modalità diverse per esempio la modalità random e di applicare quindi un offset casuale per ogni segno quindi vedete i segni in questo caso delle linee si stanno spostando ognuno alla sua maniera in un range compreso tra 0 e 0,03 e quindi in questo modo diciamo si spostano i segni in maniera non identica ognuno a suo modo sull'asse x appunto oppure sugli altri assi potrebbero esserci le rotazioni le scale e così via quindi questo è la possibilità di scegliere la modalità random ci sono anche le altre modalità che comunque vi dirò se non le ho mai utilizzate quindi andate pure eventualmente a guardare la documentazione in questo caso perché hanno degli usi molto più rari è un modifier che mi aiuta a fare delle trasformazioni anche semplici ma in modo procedurale appunto e eventualmente a farlo solo su certi elementi del disegno e non su altri grazie e alla prossima